Oggi facciamo non scegliere l'uovo sbagliato challenge e la prima sarà Dea Allora in questi uovi ci sono regali, un buono regalo, un regalo non è tanto buono e un obbligo da fare Vediamo cosa scegliere, dai Dea inizia tu Allora, scegliere il mio colore preferito Allora io prendo questo Allora nessuno ha fido di azzurro, dai, allora 1, 2, 3, 3, 2, 1 Canta una canzone No Doveva capitare a me Facciamo scopi, sì No Potevi cantare insieme Ok, vuoi cantare l'ego No Allora, cantare una canzone 5, 3, 3, 3, 4, 1, 3, 3, 3 baby shark family shark Ah, ok, vabbè NIEEEE Mi piace la mia canzone eh? Sì, sì, è un bellissimo Dai una sigla, grazie, ciao Dai, apriamo, zippiamo LOL, surprise, serie, gioielli Ok, se non mi troviamo dentro un diamante Fatto Guardate cosa ho trovato Guardate anch'io cosa ho trovato Bellissimo, costume da bagno No Guardate cosa ho trovato Non sono rifatte Ricordate di iscrivervi E di schiacciare la campanella Sì, mi piace questo colore Cavana? Eh, prendo sempre la rosa Due, tre, via Buongiorno, boys Di snack americani Ni, 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 ni Che ho preso io Buoni Io adesso faccio il mio spacketing Guardiamo da questo pacco qua che è molto carino E mi piace il pacchettaggine oggi Guardate che carino è Prova E ti piace proprio il limone? Io pensavo a fare qualche dispetto Io pensavo a fare qualche dispetto e noi ci piace Dai, scegli questa Dai, scegli questa Ambra, scegli questa Ok Due rosti sono andate Benissimo Tre, due, uno, via No Ancora No, sono miei No, sono miei, dai Facciamo anche Facciamo scambio, facciamo scambio No Tu ne chiede veramente questo obbligo Vediamo obbligo di Nikita Posso ancora lo usare? E' buonissimo E' buonissimo Togli le mani Togli 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 Sì Super E' un bello massaggiatore Io blendo, blendo, blendo Non vuoi andare No Non vuoi andare No Non vuoi andare Non vuoi andare 3, 2, 1, via! Nooooo! E' una pe... Vè! Ma quale sarebbe quello buono? Questa volta la mamma fa la scherza! Infatti, e poi è crudo! Forse è andata meglio un po' a me. Uaah, che schifo! Faccio da letto, prego! Eeeh! L'ultimo round! Uuuuuh, non l'ho aperto io! Ok, 3, 2, 1, no, 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 ma non è giusta! Questa cosa! No! E io non l'ho mai! Ma io devo mangiare pure tutto questo! Nooo, Lea, come c'era uno! Eh, c'era la musa! Eh, certo! Ma... Devi provarne due! In questo, invece, è capitato un'uova sorpresa! Uuuuuh! 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 T'aiuto! Uuuuuh! 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 Uuuuh! La macchina fotografica! Che carino! Uuuuuh! 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 A te cosa che ti è piaciuto di più? Ah, i Pikmi Pops e i Pikmi Pops! A me è piaciuto, i miei tre sono 3 Lino Thomas, Pikmi Pops e anche i braccialetti! E io vado in bagno! Vite nei commenti quale secondo voi sorprese vi è piaciute di più e alla prossima! Ciao ciao! Iscrivetevi e mettetevi like! Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Grazie per la visione!